Per pattugliare e controllare la città Giardino, da oggi gli agenti di polizia potranno fare affidamento, oltre che su automobili e moto, anche sui cavalli. È arrivato infatti a Varese, direttamente da Roma, un distaccamento del reparto impomontato del Dipartimento di Sicurezza della Polizia. Le pattuglie a cavallo controlleranno nei mesi di luglio e agosto i parchi cittadini, i giardini estensi, il Sacromonte e le zone limitrofe al lago. I cavalli saranno ospitati gratis all'interno dell'ippodromo Le Bettole e per quanto riguarda la pulizia per le strade, il compito sarà affidato ad Aspem. I pattugliamenti a cavallo saranno particolarmente utili per raggiungere gli angoli di parchi e zone verdi non accessibili con altri mezzi di trasporto e spesso teatro di spaccio di droga.